Cari amici di Maria, siamo pronti per la nostra catechesi, dal nostro libro di catechesi Tempo di Fortezza, siamo arrivati al capitolo 24, stiamo esaminando cari amici il contesto nel quale viviamo, nel quale dovevo esercitare questa virtù. Abbiamo visto che questo è il tempo della grande apostasia, cioè dell'abbandono della fede cristiana e nel medesimo tempo anche il tempo di una nuova religione che di fatto è il vecchio paganesimo, è una religione che praticamente vuole essere la sostituzione di tutte le religioni, è una religione che ritiene tutte le religioni, in particolare il cristianesimo, forme di superstizione, l'unica religione è quella che fa riferimento all'uomo e alla sua ragione, però una ragione, cari amici, non cristianamente intesa, che conduce alla fede, ma una ragione che si chiude in se stessa ed esatta l'uomo, mettendolo a posto di Dio. Questa sarebbe la religione delle grandi elite, e ormai è diventata la religione internazionale, possiamo chiamarla una religione mondiale, che è quella diffusa in tutta l'Asia prima di tutto, ma anche in Occidente si è molto imposta, perché si è imposta con la potenza del denaro e dei mass media, però le resistenze cristiane a riguardo sono molto più grandi di quanto non si pensi a mio parere, perché è una forma di soffocamento, di dittatura che poi alla lunga la gente normale non sopporta. Allora siamo a pagina 114, vediamo le connotazioni di questa religione mondiale, che ovviamente il copyright è quello di Lucifero, è Roma sua, leggiamo e commentiamo, cari mesi, siamo a pagina 114 del nostro libro, capitolo 24, la religione mondiale. Sarebbe un errore ritenere l'ateismo il pericolo più insidioso per la fede. L'ateismo teorico e pratico è indubbiamente una malattia spirituale gravissima, che ha forviato e devastato innumerevoli anime. Tuttavia l'ateismo è contro la retta ragione e come tale più facilmente percepito come un errore. Non è certo un caso che, anche laddove la cultura dominante è atea e materialistica, coloro che negano l'esistenza di un essere supremo sono una minoranza. L'idea di Dio, per quanto limitata e oscurata dalle passioni, è un patrimonio della mente umana. L'uomo che guarda la bellezza e all'ordine dell'universo e prende coscienza della grandezza dello spirito umano, non fa fatica a postulare l'esistenza di Dio. Cioè c'è il mondo, io cosa dico? Chi l'ha fatto? Ovvio. Un mondo che si è formato per caso, senza una causa che stia all'origine di questo mirabile progetto, appare un'ipotesi assurda alla luce dell'intelligenza. Cioè se lo dici a un bambino che il mondo si è fatto da solo, straluna gli occhi. Oggi un errore più sottile, e quindi più difficile da combattere, che rischia di eliminare la fede cristiana, è rappresentato da una versione aggiornata del deismo. Si tratta in ultima istanza della riduzione del cristianesimo alla fede in un Dio unico, in modo tale da accomunarlo alle altre religioni, come l'Islam, l'Ebraismo e l'Induismo e altro. Cioè, anche laddove non si pratica l'ateismo, però si pratica un deismo, un Dio inventato dall'uomo, che va bene per tutte le religioni, ma anche qui, cari amici, quel Dio è una proiezione del Dio collettivo. Nel medesimo tempo, questo deismo di carattere religioso potrebbe trovare un punto di contatto col deismo di matrice filosofica, al quale fanno riferimento molte espressioni del pensiero contemporaneo, come Dio massonico, cari amici, compreso organizzazioni come la massoneria e i gruppi religiosi di nuova formazione. C'è un Dio che va bene per tutti, basta che non disturbi. Il deismo, come proposta religiosa universale, che accomuni tutti gli uomini, ha indubbiamente più possibilità di imporsi all'ateismo. Infatti, credere nell'esistenza di un essere supremo è più conforme alla mente umana dell'ateismo, il quale, fra l'altro, è incapace di soddisfare l'ecigenza di religiosità che è radicata nel cuore umano. Quindi, l'antico paganesimo, come ha detto bene la Madonna, siete diventati pagani, l'antico paganesimo evidentemente bruciava l'incenso agli dei e anche ai demoni, e così è, anche oggi. Ma ciò che rende il deismo contemporaneo più appetibile e funzionale, i bisogni della società globale, è la sua capacità di unificare tutte le religioni e le credenze in un unico Dio e quindi preservare il mondo da guerre ispirate a motivi religiosi. Invece la guerra che è scoppiata, è scoppiata per motivi religiosi. Cioè la guerra del bene contro il male, come l'ha chiamata Kirill. In altre parole, il deismo come pantheon di tutte le religioni che convergono nella credenza di un unico Dio ha la possibilità di divenire un vero e proprio progetto politico e culturale. In un mondo divenuto un villaggio globale, tutte le religioni e filosofie sono chiamate a incontrarsi nella fede in un unico Dio, che poi sarebbe un Dio inventato da noi. In questa prospettiva, l'obiettivo ultimo del dialogo interreligioso sarebbe quello di trovare i punti unificanti della nuova religiosità mondiale. C'è una bella insalata russa per tutti. Non vi è dubbio che una tale impostazione rappresenti per il cristianesimo un'insidia mortale. Cioè, soltanto Gesù ci dà quell'acqua bevuta alla quale non abbiamo più sete, come ha detto il Vangelo. Infatti, ciò che caratterizza la fede cristiana è l'evento dell'incarnazione. Non è specifico della fede cristiana credere nell'esistenza in un unico Dio, per quanto si tratti di un elemento prezioso. Il cristiano non è colui che crede in un unico Dio, ma colui che crede che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, l'unico Signore e Salvatore del genere umano. Questo è lo specifico cristiano. Riconosce che Gesù è Dio, è Signore e Salvatore. I cristiani non sono coloro che hanno la loro identità nella fede in Dio, ma coloro che credono che Gesù è Dio, cioè il Redentore e il Giudice del mondo. Nei tempi del tiragare dell'ateismo, l'apologica cristiana si è rodevolmente impegnata nel contrastarlo, presentando prove di carattere razionale a favore dell'esistenza di Dio. Ora però l'orizzonte culturale sta mutando e il vero pericolo del cristianesimo è quello di farsi catturare da un progetto pseudo-religioso che lo svuoterebbe dalla sua identità. Cioè riprendono il Pantheon. Tutte le religioni, come c'è il Pantheon, dove però adesso c'è la Santa Messa, un domani e ci sarà invece la statua dell'umanità. La penetrazione di questa mentalità nel campo cristiano e cattolico è un rischio su cui vigilare. Essa provoca sbandamenti ed errori non solo fra elementi pensanti, ma anche fra i comuni fedeli. Non manca infatti chi teorizza che tutte le religioni sono vie di salvezza, mentre questo modo di pensare si diffonde fra la gente meno veduta la quale non di rado pensa che, salvo differenze non essenziali, tutte le religioni sono uguali, tanto più o meno secondo loro. Non mancano neppure propositi di preghiera universale che possono essere recitate nelle chiese, nelle sinagoghe, nelle moschee, come se per i cristiani non fosse necessario rivolgersi a Dio attraverso la mediazione di Gesù Cristo. Non vi è dubbio che lungo questa strada si marcia rapidamente verso una nuova forma di sincretismo religioso, cioè insalata russa o insalata capricciosa, se volete. Il deismo, c'è l'affermazione che dell'esistenza di un unico Dio, diviene il cardine della religione mondiale, mentre Gesù viene posto accanto ai vari mosè, Moometto, eccetera, come rappresentante di un'espressione particolare della religiosità globale. Questa operazione ingannevole trova successo soprattutto in ambito cristiano, essendo l'ebraismo e l'islam piuttosto refrattari alle sollecitazioni del sincretismo. Si tratta di un aspetto preoccupante del dissolvimento dell'identità cristiana, ricoperto però da una parvenza di religiosità che ne vede la reale pericolosità. In questo quadro, la devozione mariana, alimentata dall'apparizione della Madonna, ha questo un valore di straordinaria efficacia per salvaguardarle l'identità del cristianesimo. Infatti, Maria è la testimone perenne dell'evento, dell'incarnazione e della redenzione. Al centro dei suoi messaggi vi è sempre l'apparciamento di Gesù Cristo, della croce e dell'eucaristia. Potremmo dire, con un'espressione ad effetto, che la Madonna è cattolica, virgolettato, e che la sua sola presenza si riporta al cuore della fede cristiana, che è Gesù Cristo, il Verbo incarnato, nato da lei, però poi dello Spirito Santo. Cioè, la Madonna era testimone di Cristo, c'è poco da fare, della sua unicità e della sua divinità. Il lungo magistero della Madre di Dio a Medjugorje è stato indubbiamente un antidoto di grande efficacia nei confronti di ogni dissoluzione della fede cristiana in forme ingannevoli di religiosità universale. La regina della pace ha insegnato a rispettare gli aderenti delle altre religioni, ma ha anche affermato che suo figlio è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini e che solo Lui è il salvatore del mondo. La devozione mariana, alimentata dai santuari piccoli e grandi che sono sorti per onorare le sue apparizioni, appare oggi una forma di evangelizzazione particolarmente efficace per conservare la fede cattolica nella sua integrità. Sarà infatti l'ancela del Signore che attraverso i Suoi apostoli, gli apostoli di Maria, carissimi, terrà accesa la luce dalla vera fede nelle tenebre dell'impostura religiosa che si stanno addensando sul mondo. Quindi Maria è l'antidoto ai tentativi di una religione mondiale che in realtà poi è una forma di ateismo perché sarebbe un Dio di carattere massonico che non esiste se non nella mente di chi l'ha inventato ed è sarebbe comunque un Dio a supporto dell'Io umano del potere umano e così vedremo la prossima volta cari amici proprio questo progetto vero che è il progetto vero la deificazione dell'uomo cioè l'uomo al posto di Dio e così cari amici andiamo avanti in questa nostra esposizione nella quale la virtù della fortezza della fede della salvezza della fede ci permette di attraversare la temperie e le tempeste del nostro tempo ecco abbiamo terminato il nostro libro è intitolato Tempo di fortezza lo potete chiedere qui a Radomaria con il vostro indirizzo email con il nostro indirizzo email 031 610 610 oppure con l'indirizzo email info.it piocciola radiomaria.org lo trovate nel store online e nelle librerie cattoliche con questo abbiamo terminato restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria